Dalla zona industriale di Ortona siamo presso lo stabilimento della Micoperi, uno dei cinque punti allestiti dall'amministrazione comunale locale per effettuare i tamponi di massa, lo screening di massa alla popolazione per contenere la pandemia. Siamo con il direttore della protezione civile Mauro Casinghini e con il sindaco di Ortona Leo Castiglione. Dunque la popolazione sta rispondendo molto bene a questa sollecitazione per contenere il Covid-19. Direttore, dalle prime ore di questa mattina sono iniziate le operazioni, grazie a questa organizzazione meticolosa tutto sta procedendo per il bene. Sì, questo è il secondo weekend della provincia di Chieti, un momento veramente molto importante. Oggi iniziano altri cinque comuni, peraltro anche con una forte densità di popolazione. La raccomandazione che noi come protezione civile facciamo è quella di aderire al massimo a questa campagna perché è necessario fare la nostra parte. Noi abbiamo, lo ricordo sempre, abbiamo in questa occasione l'opportunità di prendere il coltello dalla parte del manico nella lotta al virus. Ci avviciniamo sempre di più alle vaccinazioni, però non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Abbiamo l'occasione di togliere ancora il virus dalla circolazione attraverso questa attività, un'attività completamente gratuita, aperta alla popolazione dai sei anni in su. I comuni si stanno adoperando, noi li ringraziamo, ringraziamo i sindaci, ringraziamo i medici, i sanitari, gli infermieri che stanno facendo questa attività e tutti i volontari della protezione civile che collaborano, come vedete, alla riuscita di questa importante attività. Signor Sindaco, l'amministrazione comunale ha messo in piedi questa organizzazione che comporta anche un investimento economico. Ci sono delle situazioni che allarmano il comune da lei amministrato? Beh, Ortona sta vivendo dalla prima fase un momento storico importante perché purtroppo abbiamo avuto sempre dei numeri alti. Ricordo la zona rossa che fu istituita nella prima ondata della pandemia. Ancora ad oggi siamo arrivati a 29 morti nella seconda ondata, siamo sui 235 casi positivi ancora in atto e quindi dobbiamo mettere tutti la massima attenzione, investire, spendere soldi per questa finalità credo che sia un dovere delle amministrazioni comunali ed è quello che noi stiamo facendo. Ma certamente da soli non ce la facciamo, occorre la collaborazione della cittadinanza, delle aziende. Siamo qui in una zona industriale, è l'esempio dell'amica opera è Lampante, così come il contributo dato dalle associazioni, dai volontari, dagli stessi dipendenti comunali che si sono messi a disposizione. Insomma un grande gioco di squadra che sta favorendo anche grazie al bel tempo un'alta adesione da parte della cittadinanza per la sicurezza di ognuno di noi. Signor Sindaco, ricordiamo lo screening oggi e domani qui a D'Ortona dove avete allestito i punti di raccolta? Sì, oggi e domani dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Le postazioni sono nella zona industriale qui nel sito della Micoperi, in Ortona centro presso la palestra dei Salesiani, presso i saloni parrocchiali di Cristo Re nella zona nord, quindi tutti i cittadini che vengono dalla zona nord possono andare a Cristo Re e nel salone parrocchiale di Fonte Grande che è il quartiere più grande, diciamo più popoloso, oltre alla sede dell'ospedale dove presso la sala convegni si possono anche fare i tamponi. Molto bene, ringraziamo dunque il sindaco D'Ortona e il direttore della protezione civile. A te in studio. A te in studio.